Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio dal titolo Miranduolo, le lunghe mutazioni del potere tra VII e XIV secolo, pubblicato da pochissimo all'insegna del Giglio e a cura di Marco Valenti, Alessandra Nardini e Stefano Bertoldi, che abbiamo il grande piacere di avere i nostri ospiti e ai quali io lascio subito la parola perché ci raccontino di questo lungo progetto di scavo. Prego Marco a te. Grazie dell'invito, qua abbiamo risposto molto volentieri. Dunque, Miranduolo è uno scavo che è stato svolto per 16 anni, ti ho rotto di recente e stiamo passando ogni momento ormai da molto tempo a processare continuamente i dati perché i dati usciti dal cantiere sono talmente tanti che non si potevano risolvere in una semplice pubblicazione o una serie di articoli e via dicendo. Stiamo dando nel tempo il resoconto di tutte le nostre attività e di ciò che pensiamo e dei modelli che sviluppiamo progressivamente, infatti Miranduolo in questo momento conta una settantina di pubblicazioni circa, fra i quali anche una grossa monografia di Metascavo, cioè del 2008. Stiamo lavorando chiaramente alla produzione della monografia definitiva, anche se questo testo l'abbiamo dato alle stampe, in realtà è stato un aggiornamento del gruppo di ricerca fatto online nei primi dieci giorni di marzo, quando l'impossibilità ancora di fare convegni o seminari facilmente in presenza abbiamo radionato tutto il team che sta intorno al progetto e abbiamo fatto un convegno pubblico aggiornando i dati. Il convegno pubblico ha visto la presenza anche di tanti collaboratori esterni come Francesco Stefano Ricci, del nostro Dipartimento di Scienze, paleopatologo, illustratore, ricostruisce i volti dagli scheletri, Gironamo Fiorentino, ha detto Girgi, lo chiamato così per abitudine, paleobotanico di Valia dell'Università di Lecce, che con noi c'è stato l'apporto di numismatici come Cristina Cicari, di Marianne Scauggerano, che studia le murature e che adesso è professore associato a Messina, e di tanti altri docenti, anche amici che si sono voluti confrontare con noi, soprattutto nelle conclusioni, e hanno avuto la pazienza di ascoltare tutto il convegno, come Franco Franceschi, storico medievista, Vascola Salvia, che collabora attivamente al progetto dell'Università di Chieti, e Pasquale Favia dell'Università di Foggia. Insomma, un bel gruppo di lavoro che discute e processa continuamente i dati, li mette sempre a disposizione della comunità, perché nella mia filosofia, nella nostra filosofia di lavoro, è che il dato è sempre pubblico, anche nel momento della sua costruzione. Quindi si mette sempre sul tavolo, si discute, a costo di cambiare completamente le interpretazioni anche in una fase successiva, però questa è democrazia della ricerca e è democrazia della conoscenza. Non solo dare il dato definito, trasformato in informazione, ma far vedere proprio quasi in maniera artigianale il processo di costruzione del nostro dato e la trasformazione in informazione. Questo è il concetto che ci ispira, mutato anche in parte dall'insegnamento del maestro un po' di tutti noi, cioè Riccardo Francović, e su questi binari, insomma, procediamo, anche perché Miranduolo è un contesto che merita realmente quella lunga frequenza di popolamento che ha, cioè dal VII al XIV secolo, e per tutte le fasi, i periodi di trasformazione del potere che sono realmente impressionanti e che rappresentano, a mio modo di vedere, una grande cartina tornasole per tutti i modelli che si vanno a costruire per questo periodo nel Medioevo del centro nord italiano, ma forse anche non solo, anche nel centro sud. Sì, in questa pubblicazione quello che abbiamo voluto dare nel seminario, insomma, che abbiamo tenuto a marzo di quest'anno è una revisione anche di alcuni momenti della vita del villaggio, alcune parti che erano state un po' messe meno in luce nelle prime fasi di elaborazione, quelle per esempio che riguardano la fase basso medievale, quella di secoli centrali del castello, avevamo nelle prime trattazioni e anche molti degli articoli e delle elaborazioni che sono state fatte nel corso del tempo su Miranduolo si era più focalizzata l'attenzione su quello che erano le fasi alto medievali, perché erano quelle poi alla fine che avevano dato dei risultati immediatamente visibili e anche immediatamente particolari, sia dal punto di vista della strutturazione e dell'insediamento, sia anche per quello che riguardava le restituzioni, cita ad esempio il caso di tutti i reperti archeobotanici, che davano dei risultati assolutamente eccezionali. Quello che è emerso negli ultimi anni della ricerca, sia sullo scavo ma soprattutto nel corso dell'elaborazione dei dati, è stato quello, invece sono state delle novità che sono emerse per quello che riguarda le fasi dei secoli centrali e basso medievali del castello, cioè quelli che riguardavano la parte, la fase di vita del castello gherardesco. Noi un po' la parte che riguarda quella che ho trattato io nel seminario e poi anche ovviamente nella pubblicazione riguarda una rivalutazione un po' delle fasi, appunto di queste fasi di vita del castello e una contestualizzazione diversa all'interno di quelle che erano, quella che era la griglia che emergeva dalle fonti scritte, dalle poche fonti scritte di cui disponevamo. Noi all'inizio avevamo focalizzato proprio dando retta, seguendo l'indicazione di alcune fonti scritte ad una totale distruzione del castello e abbiamo proposto, perché una concomitanza di dati poteva dare questa percezione, una distruzione del castello all'inizio del XII secolo, rivalutando un po' in maniera distaccandosi un po' da quello che erano le fonti, da quello che potevano suggerire le fonti scritte, negli ultimi anni con una rivalutazione attenta di tutti i materiali, ceramici, vitri, metallici, una rilettura delle fonti del dato materiale, quindi delle stratigrafie, abbiamo potuto leggere in maniera diversa quello che avevamo a disposizione, quindi quello che era il terreno e inserirlo in maniera diversa, quindi dare una rilettura molto meno drastica rispetto a quello che ci veniva fornito dalle fonti scritte e quindi invece leggere in maniera, ci siamo staccati ecco da quello che erano le fonti scritte e l'indicazione a quello che era le fonti scritte per rientrarci in maniera diversa, quindi dare una contestualizzazione diversa e quindi abbiamo riletto il percorso, gli eventi e l'evoluzione del castello in pietra, l'abbiamo riletto, l'abbiamo rinserito in maniera diversa e più dettagliata all'interno delle fonti scritte e per questo è stato necessario leggere il dato materiale in maniera complessiva, cioè un altro elemento che vogliamo proporre nella pubblicazione è proprio questo, la necessità di leggere tutti i dati che abbiamo, quindi il dato stratigrafico in stretta correlazione a quello che sono i dati dei materiali e i materiali letti in maniera complessiva, perché solo quello può riuscire a dare ragione di tutte le sfaccettature di un insediamento. Faccio un esempio, la distruzione che le fonti scritte potevano suggerire del castello all'inizio del dodicesimo secolo, in realtà poi contrastavano con quello che era il dato materiale, ma soprattutto con quello che era la cultura materiale, perché noi in realtà vedevamo una cultura materiale che manteneva un certo standard, che non crollava, che non aveva quella fase di declino che invece sembrava emergere. Mettendo insieme questi dati, quindi quelli più silenziosi, il dato silenzioso, ma poi che è quello che in realtà ci dà il vero polso della situazione e la vera realtà e la realtà di quella che era la vita del castello in quel momento. Quindi noi abbiamo fatto nell'ultima revisione del lavoro, ultima in realtà ne stiamo facendo, continuiamo a farne, non ci fermeremo mai, però abbiamo trovato questo modo di leggere tutti i dati contemporaneamente e quindi qualsiasi tipo di dato, anche il più piccolo, di leggerlo simultaneamente. E questo viene fatto anche con un lavoro di gruppo importante, perché ognuno di noi, ognuno di delle figure, ogni figura che si sta occupando di vari settori dei dati, sta lavorando insieme agli altri. E questo porta sicuramente a una crescita, per quello che è la lettura del sito, ma anche a una crescita, e faccio un altro riferimento, per esempio a quello che è la conoscenza dei materiali, perché lavorando contemporaneamente su tutti i materiali in maniera sempre, tenendo sempre presente sempre i dati che vengono dagli altri, riusciamo per esempio a puntualizzare delle cronologie dei materiali, a mettere a fuoco alcune tipologie e a fornire dei dati che almeno sul nostro sito sono confermati e che quindi hanno una base solida, insomma. E quindi possiamo anche riproporre, anche per quello riguardo a materiali, cronologie e tipologie molto più contestualizzate. Quindi stiamo facendo un lavoro complessivo che richiede ovviamente una conoscenza del dato singolo, ma soprattutto anche una buona capacità a interagire, a fare interagire i dati e a porsi delle domande su più fronti e quindi fornire delle informazioni, arrivare a delle definizioni più chiare e più solide. Riprendo, riprenderò ora, iniziamo un po' il discorso di Sandra sull'elaborazione del dato. Allora, diciamo, Mirandolo nel corso di tutta la sua lunga storia archeologica è sempre stata una palestra e un terreno di sperimentazione per quanto riguarda anche l'informatica applicata all'archeologia. Penso, ad esempio, all'uso del laser scanner per la documentazione tridimensionale delle simbole US, alla divulgazione web che nei primi anni 2000 era assolutamente una novità per l'archeologia, alla cosiddetta live excavation, quindi la condivisione dei contenuti e degli aggiornamenti dello scavo in diretta, direttamente dal cantiere, sui social network, come ad esempio Facebook. E riprendendo e a quello che ha appena detto Alessandra Nardini, anche questo uso sistematico di tutte le classi di materiali manufatti e decofatti per poter dare una lettura globale del sito sia nell'alto che nel basso medioevo. Bisogna considerare che Mirandolo in così tante campagne di scavo ha prodotto un patrimonio informativo notevole, assolutamente notevole, si parla di decine di migliaia di schede ceramiche, schede di metastere grafica, di vetri, di metalli, ossa animali, tutte le categorie deofate, small fines, monete, che impediscono una lettura del singolo oggetto o del singolo contesto. Era necessario quindi approcciarsi in un modo diciamo matematico in qualche modo al problema e riuscire a analizzare anche nello spazio, quindi utilizzando la geografia e in particolare i software di GIS e poter interrogare questa mole di dati in un modo diciamo coeso e strutturato. In questo senso ci siamo potuti permettere in qualche modo di cogliere differenze, di cogliere anomalie numeriche all'interno dei contesti strati grafici e poter ipotizzare anche delle piramidi sociali che si sviluppavano all'interno delle varie fasi dei villaggi alto medievali e che già in parte avevamo ipotizzato direttamente sugli scavi ma che non avevamo potuto cogliere da un punto di vista numerico e quindi economico del significato stesso del sito e delle varie dello sviluppo del potere che 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 si ebbe in questo luogo tra tutto tra settimo e decimo secolo. Io intanto direi una cosa che per chi ci ascolta e non conosce questa realtà è difficile perché siete stati presenti ogni minuto ogni secondo di questa avventura archeologica che è partita ormai più di vent'anni fa si potrebbe dire quasi no? 2001 è 2001 quindi sono più di vent'anni ormai sono quasi 22 anni fa e io credo che la cosa importante sia intanto collocare Miranduolo per chi non ne sa nulla e non conosce questa realtà. Marco parlacene tu. Miranduolo è nel territorio del comune di Chiusdino in provincia di Siena comune stranoto chiaramente per la grande abbazia di San Galgano che peraltro sulla quale stiamo lavorando già ormai da tre anni scavando e sia dentro che fuori la chiesa negli ultimi anni rivelando tutto quello che non si vedeva cioè la città monastica che sta uscendo fuori. Questo è un altro argomento lo tratteremo un'altra volta perché tanto a parte qualche articolo poi è imprevista insomma una pubblicazione anche su San Galgano. Questo veramente grazie all'apporto del comune di Chiusdino del sindaco Luciano Battaglietti in particolare che hanno sempre riduto nell'archeologia sia per Miranduolo sia per San Galgano. Il lavoro che vogliamo fare è quello di costruire in questo comune molto particolare che è un comune a grandi fette di paesaggio fossilizzato sull'antichità e sul Medioevo un grande polmone verde e una risorsa monumentale molto forte. Quello che vogliamo fare sempre in accordo col comune è costruire una sorta di parco diffuso con tanti centri importanti fondamentalmente tre principali San Galgano lo scavo di Miranduolo e il centro storico che va narrato e sappiamo che va ben narrato e creare poi così le condizioni affinché anche la famiglia media possa passare almeno tre giorni in un posto in un territorio strepitoso e in posti che danno non solo conoscenza ma danno anche soddisfazione ed emozione. Per quanto riguarda Miranduolo per esempio dopo tutti questi scavi poi dopo vorrei dire qualcosa anche su il periodo Longobardo e il periodo Franco di Miranduolo per quanto riguarda Miranduolo comunque abbiamo già redatto il progetto scientifico pochissimi anni fa e in questo momento un team di architetti l'ha già confezionato diciamo per una sua per la sua versione definitiva che verrà sottoposta presto anche alla superintendenza e che poi si spera partecipi ai vari bandi PNRR che sono usciti nel corso del tempo affinché possa trovare finanziamento perché completerebbe davvero il progetto che si sta formando con un San Galgano che è in corso di valorizzazione che fa numeri impressionanti di persone e così traghetteremo anche le persone in altre zone evitando problemi di consumo in un monumento a con tutte quelle proprio consumo fisico con tutte le presenze in un monumento a di quel livello a convogliarli poi anche nel centro storico di Chiusdino dove c'è già un museo di artesare dove troverà posto grazie a un altro bando vinto dal comune altro bando PNRR vinto dal comune di Chiusdino troverà il museo dello scavo di Miranduolo quindi un grande circuito informativo didattico emozionale sono tanti gli aggettivi che si possono usare che porterà una volta per tutte in maniera più diffusa il turismo culturale il turismo culturale a Chiusdino perché di fatto noi su Miranduolo dove faremo una valorizzazione mista tra possiamo dire l'esperienza archeologico di Poggi Bonzi e altre esperienze che abbiamo fatto in altri contesti vogliamo raccontare tante storie tutte le storie del potere delle masse popolari silenziose come diceva Maribloch che hanno vissuto questo posto vogliamo dare questi racconti alle persone e vogliamo che il brand storia ricostruita sia il brand di Chiusdino cioè la sua eredità, la vera e propria eredità del proprio contesto che diventa favore anche di volani economici che si affiancano, di tipo culturale che si affiancano a quelli che già ci sono insomma un territorio che vuole valorizzare, un'amministrazione che vuole valorizzare realmente ciò che ha rendendolo il tramite per arricaduta anche la nascita di nuove ed altre attività produttive che di fatto noi su Miranduolo, risornando a bomba sul contesto con la ricerca archeologica che ha coperto quasi il 97% del castello cioè cifre bulgare ci sarebbe detto una volta e abbiamo scavato anche fuori di fatto noi raccontiamo una storia incredibile che va veramente con tutto questo sistema di lavoro continuo di confronto di rinuovo processamento dei dati, revisione eccetera eccetera e del confronto fra tutti noi va a costruire un segmento della storia della Toscana Medivale straordinario come è stato ben descritto anche nelle conclusioni del volume che riportano la tavola rotonda fatta alla fine del convegno perché noi ci troviamo all'improvviso in una zona che in età classica non in età etrusca ma in età romana è periferica e che poi invece con l'età lungovarda diventa un centro importante inizialmente probabilmente con molta probabilità anzi sotto spinta del potere pubblico è molto probabile che il poggio di Miranduolo ma anche tutti quelli intorno insomma facciano parte del fisco regio che si lega a Volterra e proprio essendo proprietà pubblica viene sfruttata per le sue risorse minerarie Miranduolo nasce come un grande villaggio fabbrica medio villaggio fabbrica di età lungovarda intento a la cavatura prima a ricercare poi a cavare il minerale e poi trasformarlo in prodotto grezzo con una 7, 8, forse 10 perché alcune sono andate distrutte abitazioni che erano praticamente come le baracche su cantieri di ora in pratica insomma il senso è un po' questo per fare un confronto con i tempi d'oggi Ferro, forse anche Galena Argentifera anche se non abbiamo scarti di Galena per direttamente di Galena Ferro che poi veniva probabilmente trasportato a Volterra e lì ho trasformato in armi perché è un periodo molto agitato quello ci sono anche altri contesti in Italia che mostrano questo atteggiamento delle armi che va avanti come ha ben evidenziato Vascola Salvia in alcuni suoi contributi nel tempo e oppure veniva trasportato in altri centri satellitari per essere lavorato oppure direttamente per essere commerciato questo aspetto di nascita, di origine dietro un potere pubblico comincia leggermente a cambiare a partire dall'ottavo secolo l'ottavo secolo che generalmente non è troppo ben conosciuto a livello archeologico ma che qui per la fortuna e la decisione di aver scavato estensivamente tutta la collina l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato anche in maniera molto cospicua ed è un ottavo secolo dove invece si osserva una trasformazione netta della vocazione produttiva del contesto perché pur rimanendo un'attività di fabbro fabbrile, una, all'interno del contesto in realtà c'è una trasformazione in senso agricole, rurale e allevatizio dell'intera collina con una sorta di duplice potere che si spartisce contadini e produzione ovvero due grandi fattorie fortificate da palizzate una con chiesa in legno all'interno che è artigiani barra fattori che vivono vicino a queste grandi fattorie e tutto lo spazio della collina è destinato ai contadini dipendenti con una differenza che si vede forte dalla piramide che citava prima Stefano Sociale non solo nella distribuzione degli oggetti non solo nella distribuzione ma si vede negli accessi a mercati che contadini non hanno semplici contadini non hanno si vede nella quantità di strutture per l'immagazzinamento del surplus produttivo che sono tantissimi 46 addirittura nella fattoria per comunicare una fattoria una fattoria fortificata con chiesa più magazzini eccetera mentre invece le abitazioni semplici hanno al massimo un silos quindi persone che lavorano quasi esclusivamente per i due nuclei di potere che sono coesistenti non so se in concorrenza forse sì ma che modellano il paesaggio intorno dal minerario al rurale e la stessa collina io ho la netta sensazione che questi due poteri che si trovano siano forme materiali ben visibili della privatizzazione dei poteri pubblici e gli stessi Vescovo, Gastrato di Volterra hanno fatto inserendo questa proprietà di Miranduolo nei loro patrimoni nei loro patrimoni personali e qui per l'ottavo cielo viene fuori un mondo incredibile addirittura come spesso accade negli scavi più fortunati ma al tempo stesso un po' sfortunati l'ultimo anno di scavo proprio gli ultimi giorni abbiamo trovato tutta una serie di quantità una quantità di scarti di produzione ceramica agli ottavo secolo che ci fanno capire che con grande probabilità c'è ancora fornace da ceramica nell'ottavo secolo nelle vicinanze credo stia sotto uno dei grandi scari che abbiamo fatto di terra abbiamo fatto nel corso del tempo ma che di fronte a la costruzione del progetto di parco sicuramente ricercheremo e riprenderemo in mano e poi c'è tutta la sequenza che abbiamo raccontato più volte di un unico potere al comando la fattoria che per comodità chiamiamo laica per distinguere da quella della chiesa quella con chiesa all'inizio del nono secolo è già abbandonata emerge solo quella in superficie modifica ancora di più la collina è il momento più duro per i contadini quanto i contadini nel mio modo di vedere nel periodo carolingio vivivano un periodo peggiore periodo franco è un periodo peggiore che abbiano vissuto nel loro tempo perché sono poco più che attrezzi nient'altro si vede bene anche dalla distribuzione piramidale del cibo della cultura materiale da tante cose ed è un momento probabilmente nel quale visti anche dei sondaggi fatti nei versanti della collina Mirandola è un momento di massima popolazione cioè arriva a una cifra calcolabile fra i duecento e trecento persone residenti quindi questo alto medioevo non è tanto spopolato o tanto buio non è che con l'arrivo del nuovo millennio la luce i contadini che si riproducono di più che lavorano di più cambiano le cose i dati vanno trovati per costruire modelli storici per confrontarsi con i modelli già esistenti sono informazioni e dati davvero importanti anche perché comunemente si pensa che quelli siano i secoli più oscuri meno meno noti anche perché probabilmente sono stati meno indagati meno interessati dalle domande dell'archeologia e degli studi storici ma soprattutto Maurizio io penso anche una cosa per quanto riguarda l'archeologia io uso un termine provocatorio non ho mai amato la bulimia degli scavi cioè tanti piccoli scavi ma gli scavi fatti nel corso del tempo da un ricercatore a scavare più cose io credo e lo penso seriamente per avere risposte esaustive che possono confrontarsi davvero con i modelli storici e integrarsi con i modelli storici esistenti credo che bisogna avere il coraggio di fare nella propria vita di ricercatore pochi scavi ma in grandissima estensione indagando più più superficie possibile arrivando fino fino alla fine delle informazioni che possiamo che possiamo trarre magari sbaglio magari ha ragione chi fa più scavi via dicendo però io penso seriamente questo beh io avrei veramente un sacco di domande anche perché tu Marco sai perfettamente quanto io ami quel territorio per varie ragioni che non sto qui a raccontare ovviamente se non avete altro io direi che la cosa importante è ricordare il titolo del libro perché lo scopo di questo video incontro è quello di promuoverne la vendita ovviamente perché troverete tutte le risposte alle cose che ci hanno raccontato tre dei curatori quindi il titolo è Miranduolo le lunghe mutazioni del potere tra settimo e ottavo secolo appena pubblicato dall'insegna del Giglio a cura di Marco Valenti Alessandra Mardini e Stefano Bertoldi che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti e che io ringrazio tantissimo per questa presentazione grazie a tutti e buone feste grazie grazie a te grazie 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 a te